Questa è l'aeroporto militare di Cameri. Questo qui è il famoso pilota automatico. E davanti a noi c'è Milano. C'è la macchia. Milano Milano, eccola qua. Questo qua. Ok. Ma il pincel, la vede? Ah, eccola qua. Sì, sì. Ok. Aspetti che adesso dobbiamo vedere un attimo. Adesso io come entro in aeroporto, la pista d'atterraggio la so già? Allora, noi arriamo sulla stessa pista da dove siamo decora. Ah, ok. Nel caso ci fosse stata invece una situazione reale, quindi anche la simulazione, noi stiamo volando con l'ausilio del controllo del traffico aereo, Cameri. Sì. Noi stiamo volando a vista, tanto per intenderci, come se non ci fosse traffico. Allora, se noi fossimo sotto il controllo del traffico aereo, noi a questo punto dovremmo seguire le istruzioni. Ah, ci danno le coordinate. E l'altro ci dice, ci dà i vettori per arrivare a una pista piuttosto esatta. Passiamo sopra Cameri. Passiamo sopra Cameri. Sì. Dobbiamo andare per forza a girare in piscina. Puntiamo sull'isola. Questo è il piscino per l'isola del piscina. Sì. Non so come ci chiami per l'isola. Lì, comunque è attraverso di Cameri, poco prima di Novara. E' un isolotto che c'è. Quindi...